Ciao ragazzi, bello a tutti ragazzi, allora bello a tutti ragazzi, io sono Safflerita, bentornati a questo nuovo video, oggi siamo su un video allora vi devo dire che sto scaricando un nuovo gioco che si chiama Dauntless appunto e voi siete questi cacciatori, praticamente questo gioco consiste che noi siamo tutti cacciatori e uccidendola per i mostri, mostri, si sono mostri, e ci daranno dei materiali e vi porterò sul canale raga perché mi pareva tanto interessante e con quei materiali in teoria dovremmo poter costruire delle armature e delle armi nuove allora devo dirvi, ce l'avevo già, l'ho giocato un botto, era il mio gioco preferito e lo è ancora, poi lo porterò un botto sul canale raga, ci farò anche le live quando potrò e beh, volevo dirvi questo e terzo, quarto, ci divertiremo un sacco, è inutile che ve lo dico comunque, beh, spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like se volete potete scudervi, premete la campanellina e beh, seguite le mie notifiche e ci vediamo ad un prossimo video, vi do anche l'appuntamento ciao ragazzi